Tornare ad appropriarsi di uno dei cinque sensi, cogliendo l'occasione per iniziare a sottoporsi a controlli che poi diverranno periodici. Questi alcuni degli obiettivi della manifestazione Nonno Ascoltami, organizzata dalla Fondazione Udito Italia Onlus, col reparto di Otorino Laringoiatria dell'ospedale Santimoteo di Termoli, insieme anche all'amministrazione comunale e ai volontari della Croce Rossa Italiana con la partnership ulteriore di Maico. Nella cittadina adriatica, in piazza Monumento, sono arrivate oltre 300 persone, la maggior parte anziane, per sottoporsi allo screening uditivo gratuito che rientra in una iniziativa sostenuta dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e dal Ministero della Salute. Questa è stata un'ottima cosa anche perché effettivamente fare le visite in questo modo ci dà l'opportunità di avere la sicurezza di quello che effettivamente è la nostra salute. L'importante è che la prevenzione serve e dovremmo usarla di più e anche l'Ende dovrebbe darcela di più, questo è importante. Medici specialisti hanno accolto gli utenti dando loro spiegazioni, informandoli sui rischi della perdita dell'udito e su come prevenirla. A coordinarli il primario di Otorino Laringoiatria del Santimoteo, Giovanni Serafini. Sicuramente è importante soprattutto per queste patologie che spesso vengono anche misconosciute o sottovalutate dai pazienti e poi possono portare a lungo andare anche a una problematica di tipo sociale. Basta poco, basta un controllo, bastano degli utili consigli per far sì che i nostri nonni ma anche i nostri giovani rimangano sempre connessi, rimangano sempre attivi. Attraverso dell'uso delle cuffie si mandano dei toni su intensità e frequenze diverse atte così a determinare entro un certo range la frequenza, la soglia uditiva della persona. Viene da sé che nel caso in cui notiamo qualche anomalia poi verranno mandati agli step successivi, a quelli degli specialisti o strutture comunque più specializzate a fare questo tipo di esami. Se sentire fondamentale per vivere le relazioni con i propri cari sul lavoro è evidente che l'attenzione all'udito debba essere veramente un tema prioritario. Ci se ne accorge un pochino troppo tardi e noi siamo oggi in piazza anche per ricordare a tutti giovani e meno giovani l'importanza di uno screening per entrare in contatto con questo tema e poi nel caso in cui ci potesse essere bisogno di un approfondimento potersi relazionare sia con l'ospedale, quindi sia con i medici che in generale con i centri acustici. L'assessora alle politiche sociali del Comune di Termoli Silvana Cicciola ha evidenziato la valenza sociale di un evento che si rivolge alle persone della terza età. C'è una grossa fetta della popolazione molisana che tenderà ad aumentare. Bisogna fare screening, bisogna farsi visitare e dico veramente grazie a questa organizzazione che dà ascolto alle persone che veramente hanno questo grande problema che è invalidante. Grazie. 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 Grazie.